Sì, rivolgo i miei soldi. I soldi che i tuoi amici mi hanno rubato. 160 milioni più gli interessi. Non sono l'unico al mondo che cerca gli undici di Ocean. Ci serve un buon colpo, un colpo che paghi bene. Ma ora scottiamo troppo per lavorare in questo paese. E dove andiamo? Fai i sopralluoghi la sera del nostro anniversario? Tess. E lei è il signor? Diaz, Miguel Diaz. Lei come si chiama? Craig. Craig. Posso farle una domanda? Avete delle cassette di sicurezza qui? Senti, non mi è mai piaciuto fare il misterioso, ma non posso parlarne e non posso nemmeno dire perché. Mi piacerebbe avere un ruolo più centrale in questa partita. Io non ho capito nemmeno che è successo lì dentro. Che cosa ho detto? La prossima volta ti metto in prigione. Quindi lei sa che... Sarà meglio che... Rivolgo i miei soldi. Ok, perché ho tutta un... Scendi dalla mia macchina. Grazie. Come stai? Tutto bene? Oh, sì. Benissimo. Per essere quasi un morto. Ok, bene. Tu hai detto che lui l'ha chiamato gli undici di Osha. Scusa, ma chi l'ha deciso? Hai ragione. Io sono un libero professionista. Avrai anche tu un piccolo ruolo. Un piccolo ruolo? E chi dovrei essere? Beh... Che stiamo rubando? Un canale! Yeah! Si! Sì